Colonnello, un'importante operazione, quella che si è conclusa nelle scorse ore, un'operazione che ha anche scosso molto l'opinione pubblica, anche per via degli importi sequestrati? Sì, è un'indagine che ci ha visto davvero molto impegnati per alcuni anni, un'indagine partita effettivamente da alcuni alert della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, proprio per gli enormi quantitativi di denaro che si muovevano sottostante a questi acquisti di partite di oro dall'estero. Un'importante riflessione andrebbe fatta anche su come si è evoluta la criminalità organizzata in grado di accedere a più canali? Sì, infatti questa indagine ci ha visto davvero molto impegnati su questo fronte, abbiamo potuto apprezzare e abbiamo dovuto adeguare i nostri schemi di intervento stante la grande capacità di questi presunti responsabili nell'avviare, nell'avviare accesso ai canali finanziari, nell'avviare nuove società all'estero, sedi all'estero, un accesso praticamente totale alla possibilità di riscuotere per contanti enormi, enormi quantità di denaro all'estero che hanno anche sortito qualche preoccupazione da parte delle autorità estere.